Etna Palace è il posto adatto per festeggiare il tuo giorno speciale, immerso nel verde dei suoi giardini o a bordo piscina, in una romantica e suggestiva location con una sala ricevimenti senza pilastri centrali. Dotato di ampio parcheggio, Etna Palace ospita i suoi clienti in un elegante ristorante con uno staff specializzato avente 30 anni di esperienza. Grazie a tutti.